Ciao a tutti, vediamo insieme il volantino Lidl dell'ultima settimana di novembre. Allora, sempre magico Natale, quindi abbiamo i prodotti nell'offerta. Nuovamente della Deluxe, come avevamo già visto. E se trovo qualcosa ve la consiglio, tipo la pasta, vedo già qui. Questi sono i tortelloni, avevo preso i ravioloni, una roba del genere. Comunque non è male come pasta. Poi abbiamo le solite salse, mostarda, panettoni. Sappiamo che come marchio della Deluxe. Guardate, mi interessa queste, ravioli alpecorino e miele. Sapete che io adoro il miele. Il formaggio con il miele è una roba top. Quindi queste secondo me sono buone da vestire. Il problema è che io non posso andare alla Lidl, perché fuori dal mio comune, noi essendo in zona arancione, non si può andare. Provo a chiedere magari se è pasta mia madre, perché quelli sono interessanti. Poi abbiamo altre cose. I surgelati, vari sughi, ragù, olio. Nuovamente panettoni, dolcetti. E insomma queste robe qui. Poi abbiamo questi sette natalizi, quindi con formaggi, panettoni, vini. Quelli che insomma si regalano a Natale. Oddio, il Belis al cioccolato. L'avevo mai sentito il Belis al cioccolato. Mi sa che è buono. Dicevo io col mio compagno, da tenere qualche licorino qui a casa, non so magari quanto viene qualcuno a mangiare da noi, come è boh, digestivo, qualcosina, secondo me bisognerebbe tenere. E questo Belis al cioccolato non sarebbe male. Poi abbiamo una serie di idee, regalo, pochette, regalo, day night. Di che marchio è? Della Maybelline, quindi magari da regalare a una mamma, una sorella, eccetera. Confezioni, regalo della Tesori d'Oriente, Giardino dei Sensi, pochette, quella con il rim e la matita, cofanetto di Minios, un bagno dolce molto carino, a forma di sfumante, poi vabbè, frutta e verdura, le solite carni, le offerte del lunedì, offerte del giovedì, super offerte. Andiamo avanti. Anche per la pulizia, soli cose che non mi soffermo. Poi abbiamo un abbigliamento natalizio, che Lidl lo propone ogni anno per bimbi e bimbe, e anche per noi adulti. L'anno scorso mi pare che c'era tipo una felpa molto carina, che volevo andare a prendere, poi non l'avevo trovato. e queste qui sinceramente non mi piacciono chissà che, sono molto basic. Queste cose sono, vestiti natalizi, con tutti i decori per i capelli, elastici, mollettine, eccetera. E poi, no, troppo carino per il cane. Allora, abbiamo sopra questi scaldamani, questi leggings natalizi, calzettoni, e il costume natalizio per il cane, no, porino. Io già, ogni anno, cerco di fare la foto, io e il mio compagno, davanti all'albero, insieme al cane, che gli metto il cappellino, o il cerchietto con le corna della renna. Ed è sempre una gran fatica, se gli prendo una cosa del genere, è la fine. Poi, vediamo decorazioni natalizie. Allora, abbiamo paesaggi natalizi a led, e penso che si muova anche qualcosa. Poi catene luminose, rami luminosi, un albero di Natale, candele, carte regalo, abbiamo gli adesivi di Natale, quindi stickers, poi abbigliamento sportivo per donna, abbigliamento sportivo per uomo, pollice verde, che carino il bonsai, la stella di Natale, quella bella grande, che l'altra volta, se non ero, c'era quella singola, invece adesso c'è quella che io ogni anno infatti la prendo da Lidl, però non ci si può andare, oddio, perché mi va sempre su? Uffa! Allora, dove eravamo arrivati? Alla stella natalizia. se mi sentite che ho dei momenti di silenzio di abbasso di voce, che ho dei crampi alla pancia, che non avete idea, sto prendendo l'antibiotico, perché ho ancora la febbre, e me l'ha prolungato di qualche giorno, solo che l'antibiotico, già l'antibiotico di per sé dà comunque problemi intestinali, tenendo sempre conto del fatto che non ho la cistifella, cioè, mi fa un malissimo, ho da ieri dei crampi allucinanti, vabbè, ho anche il ciclo, poi top. Dicevamo, abbigliamento natalizio, i bonsai, e la stella di natale, che mi piacerebbe prendere, ghirlanda natalizia, anche questa mi piaceva prenderla, ad attaccare, perché io ho sempre fatti comunque quelle in casa, molto semplici e basic, però mi piaceva avere qualcosa di più pomposo. Poi, abbiamo gli attrezzi da lavoro, se qualcuno ha un babbo che gli piace il fai da te, eccetera, gli può fare anche questi regali, vai su da sola, gli può fare questo genere di regali, dicevo, e poi cosa abbiamo? Vabbè, altri utensili, giacche da uomo, poi, mobiletti da bagno, idee regalo per bambini, quindi giocattoli, le piste in legno, macchinine, e gioco magnetico, questa cosa cos'è? Queste cose sono degli stencil, stencil per colorare, con, ha un libro con sagome da disegno, c'è un blocco da disegno, 5 sagome, 36 grafiche, un foglio con adesivi, quello ad esempio, mi piacerebbe andare a vedere, se c'è qualcosa che, magari mi può servire, sempre per lo scrapbook, ecco, poi cosa abbiamo? Passa da modellare, poi qualche gioco in scatola, i lego, questi elicotteri da far volare, giustamente anche per le femminucce, le barbie, puzzle 3D, qualcosa delle lol, libri per bambini, e poi le super offerte del weekend, quindi, ancora, niente, quei soliti kit natalizi, che di solito mettono, però magari ancora presto, magari dalla prima settimana di dicembre, però c'è qualche cosina che vorrei andare a vedere, ma purtroppo, non posso, tanto qui sicuramente, fino l'11, sì, perché ci sono tre settimane, prima di poter cambiare colore, rimarremo così, ma secondo me rimarremo così, fino al prossimo anno ormai, e niente, ditemi che cosa ne pensate di questo volantino, se avete trovato qualcosa di interessante, e ci vediamo presto, ciao ciao!